piccolo video sto acquistando delle migliorie della cos'è questo ufficio documenti già ho speso 550 mila il primo mettiamo il secondo e poi lo riempio a tappo cioè di merce 285 via via tutto tutto no 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 non devo vendere acquista migliorie questo non ero arrivato lì ok madonna quanti soldi milioni sto spendendo tantissimi ragazzi una trentina ok ruba le scorte è ready to settle this the old-fashioned way with fists and jaws and bruised internal organs huh ok well the lost are cut loose at some club and a few of the brothers are carrying the packages we need check your guns at the door go in there and knock heads till you get Sì. C'è ma adesso a questo punto devo ammazzare qualcuno com'è qua? E' ora di spaccarsi un po' le mani, di sforcarsi un po' le mani con questi stronzi. Quindi cos'è? Catena una rissa al bar. Ah una rissa. Quindi il bar è questo. Vediamo chi c'è dentro. Questi i membri dei Lost. Porco cane. Allo sto punto... Ma le armi? Scusate. Devo uscire un attimo fuori. Un secondo eh? Eh. Usiamo il tirapugno almeno. Qua ci menano tutti eh. Ossia. tanto quanti sono sono tantissimi no la risa ha detto lui ha detto di fare la risa è questo che bastardo è che bastardo è che bastardo Allora Non mi fa caricare la salute dentro però sto andando bene Sempre tira-funghi Me ne mancano tre Cazzo allora no allora uso il coltello a sto punto e no a sto punto servirebbe una mazza ma io non ce l'ho C'ho la torcia e con la torcia cosa faccio? Ce le suono con la torcia vediamo Proviamo la torcia dai Se va I'm gonna show you how it's done Ma questo bastardo Cos'ha usato il coltello Adesso uso anch'io il coltello A questo punto Ma non so se me lo mette dentro però mi sa che non mi mette niente Vedi vedete Devo farlo manualmente Devo farlo manualmente Beh però serve per quando uno Toca bastardo Hai raccolto le scorte per lo stabilimento L'ho raccolto Ha detto così Quindi esco E quindi cosa prendo? La mia morte? Basta ... ... ... ... ... Cioè volevo dire che a far ammazzate serve all'inizio quando uno per diventare forte è buono. Ok scorte consegnate. Quando entri tutti appena ti vedono si siedono. Eh vediamo. Rifornisci. Ruba scorte. Ok. Well the supplies we found are in the hands of some pretty nasty people deal with those people and get us what we need. Oh yo upper flopper. Ecco le prime scorte. Ok. 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 certo che sta moto è molto maledetta veramente è tutta difettosa non sta mai in piedi non sta mai in piedi andiamo e tutti che volano e ne ho da prendere qui e 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 per questo lavoro sarà necessario un video di per evitare di abbandonare la tua moto puoi selezionare manda il tuo veicolo personale al deposito quindi cosa vuol dire questo a parte che non so non so ancora dove sono questi qui quindi devo scendere mi sembra vediamo cosa succede c'è per caso nel telefono qualcosa? no acquisisci un livello di sospetto? ah ho capito allora mandiamo la moto al deposito che 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 Allora devo sparare a uno? Eh sì, per forza. Ok, fatto, il livello ce l'ho. E quindi? Mantieni il livello finché non appaiono le scorte, ho detto. Quindi devo sparare? La polizia. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Veicolo sbloccato, dov'è dov'è? E questa è la moto, eh? Eh, sono belle le emissioni! Porca miseria! Seminano gli sbirri a dentro! Ok, seminiamo, vai! Oh no! Vorrebbe essere già sufficiente dentro qui. Sono solo una sterla qui. Ok. Mi dice di andare di là. Ok. Tutto a lavoro. Quanta gente si è riempito! We got it! We're all good! LJT, logging out! Chissà se è dentro... Ah sì. Vabbè. Vediamo ancora. Volendo potevo pagare. Non l'ho voluto fare. Ok. 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 Ok, ok. 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 E' meglio usare l'arma perché non vorrei che butto giù qualcosa che serve. Sì ma c'era uno qua, eccolo Sono guardate giurate Oh porca roga, è meglio usare la pistola o il silenziatore Un momento, un momento, un momento Ce n'è uno là anche Cosa c'è qua dentro? Ah è vero, le casse E allora devo usare Devo uccidere Andiamo con il silenziatore Niente, niente Ci bisogna fare azione, basta Se no non mi sbrigo più No, non mi sbrigo No, non mi sbrigo più No, non mi sbrigo più Allora, tutti questi L'MC è collegato con il Night Club Più faccio qui e più soldi entrano là dentro Prima neanche ho prelevato C'era appena 2500 dollari Ho detto Cosa prelievo? Ho portato solo un VIP e basta Ok Allora, qui siamo già a manetta Quindi Questo video si conclude qui Vediamo un attimo Cosa è una cosa? Rifornisci cosa? Ancora ce n'è? Ah, posso rubarne ancora? Vuoi davvero rubare scorte per il tuo... Eh sì, vediamo cosa dice qui Questo puto va per finire Abbiamo sfruttato uno dei nostri rivali, ragazzi Per venire con i servizi e fare un po' di lavoro sull'equipimento Prendetele e portatele in C'è un po' di lavoro Per venire con i servizi e fare un po' di lavoro Quattro chilometri di strada Io sono in aria Siamo arrivati, sì, qua No, quello cos'è? Un blindato? No, il furgone Eh no, se apriva il fuoco saltava il furgone Purell da Esco! Ecco qui, sono missioni belle, sono tutte belle, ormai non ci vuole, ma porca, mcc, l'hai fatta? Alla prossima. C'è un po' di là, eh? C'è un po' di là Eh, sparo Vediamo se si vede questi qui, diremo, è quelli lì, dietro. Cerchiamo di stringerlo così. Questo sbatte qua, sbattuto, ha fatto sbattere, contro il paracarro è andato. Dopo voglio fare un video per vedere quanto guadagno, adesso ve l'ho riempito. Grazie. Quindi la cassaforte del Lake Club può arrivare anche a contenere qualche milione, adesso non lo so. Se non tocco nulla si riempie. Devo scoprirlo perché è una novità per me. Tutta questa cosa, tutto questo collegamento. Ok, basta, mi fermo così, basta, tanto ce l'hanno. Ok, allora questo video intanto è terminato qui e riprenderò quando farò la consegna di questo carico qui. A country blank, non so cosa ha detto lì. E la zona qui sarebbe... Sarebbe dall'altra parte dove avevo il bunker. Quando dice qua vendi... E ti da di più quando vai dall'altra parte però, non allo santo. Dall'altra parte della cartina. Ok, è arrivata anche lei. E un po' che non la sentivo. Un bel po'. Ok. Questo video lo chiudo qui e riprenderà il prossimo, come ho detto, con la vendita. Ciao a tutti.